Ciao, sono Carlo Molfetta, medaglia d'oro di Taekwondo alle Olimpiadi di Londra. La disciplina del Taekwondo è la mia passione. È un'arte marziale antica e molto spettacolare. Vieni a scoprirla ai campionati italiani. Ti aspetto! La Federazione Italiana di Taekwondo organizza un fine settimana di sport agonismo spettacolo. Sabato e domenica appuntamento alla nuova Fiera di Roma per il campionato italiano cintura nere di Taekwondo. Avrai la possibilità di vedere e conoscere da vicino i campioni di oggi e quelli di domani. Presenti anche gli olimpionici di Londra 2012, Carlo Molfetta e Mauro Sarmiento. E avrai anche la possibilità di vincere un corso gratuito di Taekwondo. Non perdere questa occasione. L'ingresso è gratuito. Ti faremo vedere l'arte del combattimento ai massimi livelli. Parola di Carlo Molfetta.